Ciao a tutti, come state? Spero stiate tutti bene. Allora, come potete vedere, siamo su Fortnite. Sebbene è un gioco che non mi faccio impazzire per non dire che mi faccia cagare, oggi però voglio provare a fare qualche partita per vedere un pochettino com'è la situazione, visto che in molti di voi mi hanno chiesto di portare Fortnite, ho deciso di accontentarvi. Sono vestito da casa, quindi non fate caso a tutto questo. In realtà volevo registrare solamente l'audio, però ho detto, vabbè, potrebbe essere anche carino. Un gameplay ASMR che mi si vede anche. Spero che le cuffie non facciano casino perché sono rotte, quindi potrebbero dare un po' di problemi. E quindi, niente, direi di partire. Chiaramente, ragazzi, questo video non vuole dimostrare nulla, anche perché, ragazzi, sono letteralmente una pippa a giocare a Fortnite. Quindi, per chi volesse poi dirmi, eh, fai schifo, eh. Cioè, evitate perché tanto lo so. Non sono capace a giocarci e quindi evitiamo, insomma. Anche perché, come vi ho già detto, io ci ho giocato proprio all'inizio, però l'ho abbandonato praticamente subito. Non ho continuato con il gioco. Quindi, evitiamo nel caso di giudicare una persona perché non è capace a giocare a un gioco. Anche perché se venite su COD vi faccio un bucio di culo così, quindi. Ok. E non so dove andare, in realtà. Così quasi andrei qua giù. Vediamo. Ah, che bello, si vede anche sulla mappa adesso il punto. Beh, figo, dai. Ok, ho la sensibilità un po' alta, ma ok. Io non mi butto mai in mezzo alla mischia, cioè, sono uno che va molto da parte, ecco. Morirò subito, ragazzi, me lo sento. Dai, però un po' più veloce, su. Non ci arriverò mai. Ok. Ok, non so se c'è gente, ma non mi pare. Ho già visto una cassa qua. Mi faccio male da qua. No. E sopra. Molto bene. Che cazzo è sta roba? Ma ragazzi, non l'ho mai presa questa roba qua. Che cosa è un lanciamissile? Un po'. Vabbè. Allora, prendiamo un po' di legna. Allora, la safe è relativamente vicina. Ma posso mangiarne altri di questi cosi qua? Ok. E dai, li mangio allora. Siamo a 133 e io non ho visto nessuno. Mi dispiace se questo gameplay sarà magari un po' noioso, ma... Come vi ho detto, io gioco in un modo dove non pusho fondamentalmente, perché... Non essendo né in grado, non posso pushare la gente. Cioè, capite, no? Ottimino. Da cassa ci stanno qui. Allora, facciamo una bella cosa. Ok. Vorrei capire la gente dov'è più che altro. Potrebbero essere al... Potrebbero essere di qua. Ok. 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 Che leaving, ov Mandela. Ok. Sì. Vediamo cosa fai, ragazzi. Ok. Mi dispiace. Oddio. Ragazzi, questa cosa qua non so cosa sia, veramente. Ok, non posso più farlo un cazzo. Boh, andiamocene, dai. Quello lì mi avrei insultato malissimo, presumo. Cos'è stato? Madonna, ma questa pistolina l'ho mai usata, ragazzi. Mi farei mantenere un po', capito, distante. What the fuck? Sento dei suoni non molto più carini. Che cosa sarebbe? Sì? Sì. Sì, ok. Sì. Sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti C'è un aereo Ma se... Qua dentro sono al sicuro se quando vai dalla safe, non credo Forse per poco C'è pure una cassa No, non sono per niente al sicuro Ma che hallo visto Grazie a tutti Cioè nel senso si campano ma non sto fermo, cioè... Nel senso, no E vaffanbrodo, mi sono piccato Io pure a quemare fino da dietro Grazie a tutti Io comunque vado... Io comunque vado... Cos sopra... Io però che amare fino da dietro... Tantissimo... Ma... Ok, non ho visto uno Ok, non ho visto uno E poi... E poi... Grazie a tutti. Allora, sono lì, uno lo vedo lì, l'altro onestamente non so dove sia, scusate se parlo anche poco, ma uno è lì dentro. E l'altro è lì sotto, c'è sempre lui, credo. Ma dove sta l'altro? Tra l'altro è l'altro, tra l'altro è l'altro. Cavolo, no, la safe ragazzi, sono morto, sono mortissimo, sono mortissimo. Cazzo, quel cecchino lì dove è che era? Dai, niente. Ragazzi, però, sono arrivato secondo, dai. Mannaggia la puttana. Mi coglione. Beh ragazzi, dai, secondo, e non ho fatto praticamente nulla, purtroppo ero in una posizione un po' brutta, devo dire. E vabbè, calcolando che non giocavo da una vita, essendo io, cioè, sono arrivato secondo. Era tipo da una vita che non giocavo, quindi, cc per me. Niente ragazzi, io vi saluto e... Che cos'è questo? E mi raccomando, se volete altri video di Fortnite, fatemelo sapere, insomma. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.